Calano i contagi giornalieri, così come i ricoveri, ma in compenso torna a salire dopo settimane. Il numero degli attuali positivi e il virus fa registrare altre due vittime. E questo è il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia, alla luce delle informazioni fornite dal bollettino epidemiologico della Regione. Nelle ultime 24 ore si segnalano 1.360 nuovi casi accertati, a fronte di 9.520 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 14,2%. E ancora Bari, la provincia più colpita, con 480 nuovi contagi, seguita da Lecce con 249, Foggia 248, Taranto 144, Bat con 108 nuovi casi e Brindisi con 103, ai quali vanno aggiunti quelli di eventi residenti fuori Regione e 8 di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi rilevati in Puglia dall'inizio della pandemia sale così a quota 1.145.285. Si allunga anche l'elenco delle vittime del coronavirus, con altri due morti registrati nelle ultime 24 ore e che fa salire il totale dei decessi a 8.552. Diversamente da quanto accaduto nelle ultime settimane torna a crescere il dato riferito alle persone attualmente positive, che salgono a 18.271, mentre si conferma in discesa il numero dei pazienti ricoverati, 250 in totale, di cui 236 in area non critica e 14 in terapia intensiva. Buone notizie infine sul fronte dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.118.462, con oltre 700 guariti in 24 ore. Grazie a tutti.